Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di Occhio ai giornali di giovedì 10 dicembre 2015. Ben ritrovati cari telespettatori, come sempre un saluto a quelli che ci seguono in diretta alle 7.30 del mattino e anche a tutti quelli che ci seguono invece nelle varie repliche programmate nel corso della giornata. Iniziamo dal Santo del Giorno, oggi ricordiamo la Beata Vergine Maria di Loreto. Il sole è sorto alle 7.31 e tramonterà alle 16.31. Il cielo oggi sarà nuvoloso al primo mattino, mentre sarà parzialmente nuvoloso nel resto della giornata. Non si escludono deboli e sporadiche nevicate sui sibillini nella prima parte della giornata. Le temperature sono in aumento nei valori minimi. Per domani, venerdì 11 dicembre, ancora cielo un po' nuvoloso, soprattutto nell'entroterra, mentre come vedete il cielo sarà sereno e speriamo senza foschie lungo la costa. Per sabato, sabato vedete c'è anche il gelo nell'entroterra. Avremo sabato 12 cielo sereno un po' nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso invece dal pomeriggio alla sera. Le temperature insensibile diminuzione, soprattutto quelle minime, i venti saranno deboli dei quadranti occidentali. Attenzione però perché sabato tornano le foschie e le nebbie soprattutto in serata. Non si escludono gelate mattutine nei fondovalle dell'interno. Probabile tempo stabile sulle Marche almeno fino alla giornata di lunedì. La notizia chieri è stata pubblicata sui portali internet locali ma anche poi rimbalzata sui social network. Quella notizia che riguarda l'incidente stradale è avvenuto a Cagli dove è rimasta gravemente ferita una ragazza, una ragazza di 38 anni fanese insieme ad altri amici, insieme ad altre persone. Un frontale, un frontale che vedete qua nella fotografia pubblicata sul resto del Carlino, la pagina di Fossombrone, Cagli e Urbagna. Sara, Sara Bracci, 36 anni, di Fano, guidava una Fiat Panda, si è scontrata sulla provinciale che da Cagli arriva a Pianello. Un frontale, due auto che appunto si sono scontrate. Gli altri feriti che viaggiavano su una Ford Fiesta invece condotta da un Cagliese sono stati portati all'ospedale di Urbino, mentre le loro condizioni sono gravi, mentre Sara invece è stata immediatamente portata all'ospedale di Torrette di Ancona dove ora si trova ricoverata in rianimazione. L'altra pagina invece è quella di Fano, del resto del Carlino. In apertura il sit-in di protesta per difendere l'autonomia dell'Istituto Battisti di Fano contro l'accorpamento. Intanto i professori raccolgono le firme, mobilitazione trasversale per scongiurare la perdita dell'autonomia. Il vicepreside dice vogliamo avere un dialogo con la provincia, ma Tagliolini, che è il presidente, ce l'ha rifiutato. A Marotta invece, a distanza di un anno e mezzo dall'unione del passaggio del pezzo di Fano dentro il comune di Mondolfo, ebbene qualcosa ancora non funziona, nel senso che ci sono edifici contesi, la regione mette un punto, si tratta dell'ex scuola e della circoscrizione che qualcuno dice no, sono di Mondolfo. Pare che questa cosa vada verso una soluzione, questo muro contro muro con l'amministrazione fanese, mancano ancora i pareri di una commissione del Cal, le verifiche finali, insomma l'immobile di via chiesa potrebbe essere riqualificato e diventare una scuola dell'infanzia. Invece un focus particolare dentro la notizia, così è stata preparata la pagina di oggi, la pagina 13 di Pesaro e Pian del Bruscolo sulla fusione Pesaro-Mombaroccio. Il perché del sì, perché del sì a questa fusione e il perché del no. Allora naturalmente tra i sì c'è quello del sindaco Angelo Vichi, Angelo Vichi è il sindaco di Monbaroccio che dice questo sarà un atto di coraggio per non stare al palo, mentre l'ex sindaco Massimo Muratori dice l'unica prospettiva per Monbaroccio è quella di diventare una frazione. Intanto la notizia è che oggi il Tribunale amministrativo di Ancona valuterà se sospendere o meno l'iter avviato dalle amministrazioni di Pesaro-Mombaroccio e anche dalla regione Marche riguardo a questa fusione per incorporazione. Se il Tar oggi dovesse concedere al comitato del no la sospensiva la prima conseguenza sarebbe l'annullamento della data referendaria, altrimenti la consultazione popolare è stata indetta per domenica 13, si voterà dalle 7.30 alle 23 e l'operazione a Pesaro costerà 224 mila euro. Domani invece alle ore 21 nella sala Pierangeli in provincia il Movimento 5 Stelle dedicherà un dibattito pubblico al tema della fusione tra questi due enti. C'è un sacco di gente che non si è vaccinata quest'anno, soprattutto quelli che hanno già compiuto i 65 anni, cardiopatici, insomma tutti quelli che negli anni si sono sempre vaccinati contro l'influenza, quest'anno hanno deciso di non farla. E c'è un problema adesso, un problema che si chiama epidemia, quindi attenzione, con la salute non si scherza, influenza, vaccini a rischio flop, ora i pazienti non si fidano più, manca all'appello quasi il 40%, chi lo faceva da tanti anni cambia abitudini e pochi ammettono le assurde suggestioni. L'ultima pagina invece che andiamo a leggere sul resto del Carlino riguarda un imprenditore si chiama Luigi Rossi che è anche il titolare di una società di edilizia, Edil Group, che continua a vendere appartamenti. Merito del contratto d'acquisto programmato dice Luigi Rossi quasi la metà delle compravendite sono con questo strumento, ma tra l'altro questo imprenditore riapre oggi un ristorante, si chiama Il Bel Sit, l'avevo già lanciato dice lui ben 25 anni fa e qui in questa bella fotografia lo vedete, questo è Luigi Rossi in compagnia della figlia Giulia e della moglie Emanuela. L'altra, adesso apriamo invece il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, la pagina di Fano apre con l'allarme scattato qualche giorno fa dopo che è venuta fuori la notizia che la polizia ha multato tre locali fanesi che davano, somministravano vodka, alcolici ai minori, ai ragazzini, qualcuno addirittura con meno di 16 anni. Alcol ai minori, incontro con i genitori, stasera la Gandiglio, il dirigente del commissariato e il responsabile del CERT, dunque l'iniziativa dopo la diffida i titolari di Trebar che hanno somministrato bevande proibite a 20 ragazze. Piaga sociale per i 5 Stelle che rilanciano l'allarme, la citazione del questore nell'atto con cui si chiede conto dei controlli e della prevenzione del comune. L'altra pagina invece del Corriere Adriatico è sul sit-in contro l'accorpamento che si è svolto ieri mattina di fronte all'ingresso dell'Istituto Tecnico Commerciale. Il polo scolastico 3 è disomogeneo, i docenti sono d'accordo. Per la Lega Nord invece si tratta di un altro scippo. A Urbino invece, Urbino Albano, noto cantante, ha ricevuto il sigillo d'Ateneo da parte del rettore Vilberto Stocchi. Il cantante Albano era emozionatissimo, ha ricevuto il riconoscimento e ha raccontato anche la sua vita. Ha parlato di Romina Power, ha detto che è stata una storia straordinaria d'amore, ha parlato anche di Loredana del Ciso, voleva diventare, dice Albano, una starletta. L'artista per le Nazioni Unite è impegnato contro la droga e a favore dell'alimentazione e dell'agricoltura. Incastrata invece, andiamo sulla pagina di Pesaro del Corriere, incastrata la gang dei Giubbotti. Grazie all'intuito di due carabinieri sono stati arrestati tre romeni, recuperati anche 7500 euro di refurtiva. La banda è stata tradita da una svista nel Borsone, infatti abbandonato durante la fuga, sono stati dimenticati i documenti. Ai domiciliari sarà intanto con il braccialetto elettronico. Uno di questi tre arrestati, uno di questi tre rumeni, in attesa del processo che si celebrerà il prossimo 15 dicembre, sarà ai domiciliari, però con il braccialetto elettronico al polso. Pergola invece si conferma la capitale dei golosi, successo per la cioccovisciolata, migliaia di visitatori, strutture ricettive piene e 300 camper in sosta. Travolto in pista è ancora grave invece il titolare dell'impianto che si trova a Torrette di Fano, sulla statale adriatica, Sauro Costieri, 53 anni, ha attraversato la pista, il tracciato, mentre si svolgeva una gara tra alcuni giovani. Purtroppo c'è stato questo incidente, questo brutto incidente e quindi l'uomo che da circa 30 anni gestisce insieme alla famiglia questo impianto è rimasto lunedì sera coinvolto in questo incidente. Ancora purtroppo è grave. Da Senigallia invece, sempre dal Corriere Adriatico, i sindacati Maxi pressione fiscale, duro attacco alla giunta di Mangialardi. Le nostre indicazioni non sono state prese in considerazione. Nel Mirino l'addizionale IRPEF, l'aliquota della Tasi e l'eliminazione parziale delle esenzioni sulla prima casa. Adesso andiamo invece a leggere e aprire, per chiudere la rassegna stampa, il messaggero. Messaggero che in apertura anche oggi punta su Banca delle Marche. Banca Italia contro l'Unione Europea. Conflitto istituzionale e veleni dopo il salvataggio obbligato. No al fondo. Il dramma dei risparmiatori. A Cagli c'è chi ha perso anche 600 mila euro. Sotto invece vanno a far spese e sorprendono poi i ladri. Avevano già rubato quattro camicie e quattro giubbotte e quando un carabiniere ha chiesto cosa ci facessero in quel furgone. La risposta è stata sono regali di Natale. Entriamo nelle pagine del messaggero. Su quella delle Marche si parla di sanità e delle liste di attesa e delle case della salute. Domani è il giorno della verità. Dopo gli annunci Ciccarelli convoca l'Azur, area vasta e commissioni per avviare le riforme. Ancora dal messaggero l'edilizia soffre. Siamo sulla pagina di Pesaro. Non c'è nessun investimento. Va deserta l'asta per la vendita di immobili e terreni nel territorio. Il comune ci riproverà però a breve. Sul piano ci sono otto beni per un valore di 6 milioni e mezzo di euro. L'assessore De Regis dice che il settore è ancora in difficoltà. A Monbaroccio invece i dipendenti della Cisla sono per la fusione con il comune di Pesaro. Todaro al personale comunale dice finite le risorse. Andiamo sull'altra pagina del messaggero La Cronaca. Carabiniere in Borghese al market con le famiglie. Catturano un terzetto di ladri. Sono stati arrestati dopo una serie di furti nei centri commerciali. Colti sul fatto. Tentano di giustificarsi appunto come dicevo dicendo che erano semplicemente dei regali di Natale. Bruciati 15 milioni in una notte. I difficili giorni di Cagli dove Banca Marche e Truria sono da sempre gli istituti di credito di riferimento. C'è chi ha perso 300 mila euro e per un caso si parla di oltre 600 mila. Segnalazioni sono arrivate anche al sindaco. Sindaco Alessandri che dice il comune si schiera a fianco degli azionisti. Anche Pesaro prepara le contromosse. Anche qui vedete Albano che il titolo è Felicità riprendendo una nota canzone che cantava con l'ex moglie Romina Power. È come vincere Sanremo ha detto Albano quando ha ricevuto appunto questa targa. Studenti. Siamo sull'ultima pagina del messaggero. Studenti in difesa della scuola. No ad accorpare il Battisti. Ieri mattina si è svolto il presidio davanti alla sede centrale dell'istituto. Il corpo docente e i ragazzi tutti uniti contro la decisione della provincia. Si vuole fermare o almeno rimandare l'annunciata perdita dell'autonomia. Bene, con questo direi che possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30. Questa sera invece alle 20.30 c'è l'appuntamento con il telegiornale Occhio alla notizia. Grazie e a voi tutti l'augurio di una buona giornata.